mento ancora un'altra foto dai ali il pompon davanti non si vede tiralo davanti brava no che poi dopo l'hanno tutti nell'occhio guardate di qui lari cosa guardi lorenzo facciamo il video che ti lanciano io da mo che lo sto facendo il video la quinta ha concluso il percorso la quinta ha quinta ha quinta ha quinta ha quinta ha al mio tre lanciate il cappello uno due tre ma lo che hai fatto qualcuno l'ha fatto mentre lanciavano no 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 noi dovremmo coordinare rilanciate